Cagnacci, ero lì che parlavo con General Italia e a un certo punto il signor General Italia mi fa Mi scusi, grandissimo Dellimello, ci concederebbe l'onore di essere il nostro testimonial per un viaggio passando solo per le strade statali, senza attraversare minimamente le autostrade per arrivare da Milano ad Amalfi e ho fatto, beh signor General Italia, questa cosa mi piacerebbe e chi l'ha organizzata questa cosa? Il signor General Italia dice, noi stiamo facendo, siamo i partner di DeGira, DeGira.it mi raccomando signor Dellimello, metta tutti i loro link in descrizione io farò come richiesto dal buon General Italia, ci inchiniamo a General Italia a un certo punto però il buon General Italia mi fa, guarda, però questo viaggio da Milano ad Amalfi dal 7 all'11 settembre lo dovresti fare con Bob, Bob Liuzos Factory ho detto, scusate ma signor General Italia ha visto in faccia il buon Bob Liuzos Factory e quelli di General Italia hanno fatto, beh sì, che problema c'è? beh, signor General Italia vorrei arrivare vivo ad Amalfi a un certo punto il General Italia fa, pensa positivo Dellimello pensa positivo, tu sei il grandissimo Devi mi ha detto, pensa positivo quindi da qui è nata la folla idea del signor General Italia di DeGira.it di schiaffarci su un ape calessino a tre ruote che va alla folle velocità di 55 km orari in discesa neanche in Fast and Furious hanno rischiato così tanto nei derapage e cose così quindi a un certo punto ho detto, beh, se devo pensare positivo buon signor Mister General Italia, buon signor Mister DeGira penso positivo, mi imbarco nel Bob Bob e facciamo l'avventura quindi, attenzione, è ufficiale dal 7 all'11 settembre partenza Milano, arrivo ad Amalfi Dellimello e il buon Bob affronteranno questa impresa arriveremo ad Amalfi senza passare per l'autostrada e le strade a pedaggio tutta la nostra avventura tutta la nostra avventura con contenuti diversi potrete seguirla su Periscope mentre saremo in ape perché l'ape ha tipo il wifi boom potrete seguirla su Instagram quando faremo le nostre mangiate quando scopriremo le nostre cosette su Facebook le nostre cazzeggi, le nostre cazzate per raccontarvi la nostra avventura ovviamente su YouTube, giornalmente, sul mio canale a fine avventura un bel reportage montato come sa fare il buon Bob Liuzzo tutto questo, i social nostri DeGira, il sito General Italia che ovviamente ringraziamo ve li metto qui sotto ovviamente questo video essendo una bella marchetta cotente il signor General Italia noi facciamo le cose per bene non sarà monetizzato su YouTube come prescrivono le regole del tubo ovviamente la trasparenza l'onestà sono premiati da queste brave aziende che riconoscono la grandezza del grandissimo nel buon Bob il loro sponsor ideale un'altra cosa che vi volevo dire di tutta questa avventura qui è che ci saranno dei contenuti che non saranno solo sui nostri social ma saranno anche su DeGira e General Italia quindi seguite la loro pagina Facebook il loro Twitter il loro Instagram perché noi vi passeremo delle foto in anteprima speriamo che non ci equivochiamo e non vi passiamo certe cose in consulta tipo baci tra me Bob e ubriachi la sera una volta arrivati a destinazione e vorremmo fare io e il buon Bob dei piccoli raduni dove è possibile in questo percorso i raduni li saprete diciamo mentre siamo in strada li decidiamo il posto dove arrivare eccetera il primo dovrebbe essere a Pisa un altro sicuramente Amalfi per tutti gli altri seguiti c'è per i rari seguiti un bacino dal vostro grandissimo dell'imello e il 12 dovrei essere alla festa della rete a tenere un panel con i The Show gli H-Met il 12 comunque sarò a Rimini alla festa della rete quindi se siete a Rimini il 12 venitemi a trovare perché sono lì tutto il giorno e chissà che non venga un premio il grandissimo inizia questa avventura ciao